Attimi di paura la scorsa notte in un'abitazione di via Monte Ortigara a Campolongo sul Brenta. Attorno alle 2 è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco da parte di una 56N per un principio di incendio che aveva interessato la camera da letto. La donna qualche ora prima aveva posizionato uno scaldaletto elettrico sotto le coperte. Tornata in camera ha trovato la stanza completamente invasa dal fumo dopo che le fiamme sprigionatesi dallo scaldaletto avevano interessato il materasso. Con l'aiuto di una seconda persona la 56N è riuscita a gettare il materasso dal balcone ancora prima che arrivassero i vigili del fuoco evitando così che l'incendio si propagasse ingenti i danni provocati dal fumo.